Musica Vorrei ringraziare calorosamente Anna che mi ha costretto a passare questo weekend in Calabria e io di solito per motivi familiari lo passo fuori regione, però l'ho fatto veramente con piacere per i rapporti di amicizia cinquantennale che mi legano con lei dai tempi del liceo Galluppi di Catanzaro e io ero più vecchio certamente e poi per i rapporti collaborativi che abbiamo avuto fino a due anni fa perché io sono stato anche operatore di questo ospedale di Soveria Mannelli, io sono radiologo, ho lavorato a Soveria Mannelli purtroppo negli ultimi quattro anni da solo e questo lo dico anche alla direzione generale cioè con grandi sforzi e grandi sforzi, comunque questa è acqua passata. L'ospedale certamente l'hanno detto tutti, l'ospedale di Soveria Mannelli è stato ed è una grande famiglia tant'è che io stesso non vi nascondo che ho lavorato 18 anni a Catanzaro e poi sono voluto venire a Soveria Mannelli perché proprio per sentirmi diciamo a casa mia e l'ho fatto veramente con piacere. Chiusa questa parentesi iniziamo adesso la prima relazione, la dottoressa Maria Mancuso che ci relaziona sulla gestione rispettosa del bambino in ospedale. Allora, una parentesi del bambino deve dargli le cure mediche e i farmaci necessari quando lui è ammalato e gli adulti dovrebbero fare di tutto per evitare che i bambini si ammalano in primo luogo nutriendo per loro amore, prendendosi cioè cura di essi. E da qui quindi la nascita di tante associazioni che hanno portato le problematiche del bambino in primo luogo con la scrittura di tante carte, parliamo delle carte europee dei diritti dei bambini in ospedale perché quello che è venuto fuori, quello che si è sempre capito è che un bambino deve seguire dei percorsi clinico-assistenziali che non possono essere quelli dell'adulto. Intanto quando parliamo di bambino non dobbiamo mai pensare solo al bambino il bambino da solo in ospedale non può esistere, ha necessità di essere accudito, ha necessità della presenza della sua famiglia infatti il primo proprio articolo della carta europea dei diritti dei bambini in ospedale dice che un bambino intanto deve essere ricoverato solo se necessario dobbiamo smetterla di fare dei ricoveri inutili, i bambini possono essere tranquillamente curati a casa però ci sono quelle situazioni che ovviamente una famiglia non può gestire e in quel caso scazza il ricovero ospedaliero e quando un bambino arriva in ospedale ha diritto di avere accanto sempre i genitori non dobbiamo dimenticare che proprio il momento dell'arrivo in ospedale, il momento del ricovero pensiamo non lo so ad un bambino cronico che deve fare tanti accessi in ospedale viene vissuto da un bambino proprio come un evento traumatico lui viene distaccato dalla sua casa, dai suoi amici, dai suoi giochi e viene portato in un ambiente che per lui è del tutto nuovo è un ambiente che può fare anche un po' paura a volte e quindi noi dobbiamo andare incontro alla famiglia dobbiamo rendere ai genitori l'accesso all'ospedale e anche l'assistenza ai propri bambini più semplice dobbiamo parlare con loro dobbiamo coinvolgere anche il bambino in quello che facciamo il bambino ha diritto di sapere il bambino deve essere assistito e deve stare insieme ad altri bambini ha diritto durante il ricovero ad avere i suoi spazi i suoi spazi ricreativi, a studiare ha diritto anche all'istruzione in ospedale il bambino deve essere assistito da personale competente non ci si può improvvisare come in tutte le cose il nostro sapere deve essere validato da validità scientifiche e poi dobbiamo garantire al bambino che noi vediamo una continuità assistenziale il tutto sempre supportato da tatto e da comprensione e qui ho sentito tanto dire già ad altri colleghi dell'umanizzazione delle cure forse in pediatria l'umanizzazione è veramente necessaria diciamo che è necessario proprio diffondere la cultura dell'umanizzazione che deve essere democratica, compassionevole e che deve essere soprattutto critica cosa deve fare quindi l'ospedale? noi dobbiamo prenderci cura del bambino e prenderci cura della sua famiglia dobbiamo assicurare un'assistenza in ambienti adeguati, idonei, confortevoli e dobbiamo soprattutto limitare il trauma della malattia e della sofferenza non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui un bambino arriva in ospedale portato dalla sua famiglia ha nei nostri confronti delle aspettative sia lui che la sua famiglia e noi dobbiamo cercare di cogliere e di interpretare quelle che sono le aspettative del bambino e dei suoi genitori dobbiamo creare con i genitori e con le loro famiglie un rapporto di fiducia perché i genitori si fidano di noi e ci affidano la cosa che per loro è più importante sono i figli e quando abbiamo a che fare con un bambino quando un bambino è davanti a noi non dobbiamo vedere solo la malattia del bambino ma dobbiamo vedere quel bambino mi piace molto questa frase che dice appunto che non tutto del bambino malato è malato un bambino è sempre un bambino e quindi che cosa dobbiamo fare? quello che forse un po' tutti noi siamo abituati a fare è che nel nostro reparto, perché siamo ovviamente un reparto di pediatria si fa bene e che cerchiamo veramente di curare molto è l'accoglienza accogliamo tutti, cerchiamo di farlo con un sorriso molto bello questo disegno è fatto da una bambina in cui gli è stato proprio chiesto mi disegni come vorresti che fosse il tuo dottore e la bambina ha disegnato questa bella dottoressa sorridente e ha scritto poi io vorrei una dottoressa molto dolce c'è proprio un impatto emozionale importante un bambino deve capire che arrivi in un posto sicuro il bambino deve capire che arrivi in un posto dove viene accolto e quindi noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo imparare a rassicurare, ad ascoltare, a sostenere dobbiamo utilizzare un linguaggio a volte molto semplice, banale dipende anche da chi abbiamo di fronte dal grado di istruzione delle persone che ci stanno dall'altra parte è inutile spiegare le cose in maniera fantascientifica bisogna utilizzare delle parole molto semplici, dedicate e soprattutto non bisogna creare delle false illusioni bisogna spiegare quello che sta succedendo bisogna spiegare le procedure che si vanno a fare e il comportamento da tenere a volte nonostante magari siamo presi da tutte le nostre cose veniamo fuori da una giornata di lavoro pesante però quando arriva il bambino è l'affrenzione dei genitori lo dobbiamo gestire proprio capendo che per loro quello è un momento importante anche la patologia più banale per un genitore può essere importante quindi noi non dobbiamo sminuirla l'accoglienza è fondamentale e dobbiamo cercare di approcciare di avere a che fare con il familiare che secondo il nostro punto di vista è quello più calmo lo prendiamo come punto di riferimento e cerchiamo di discutere con chi ci dar retta i genitori devono stare vicini al bambino non si può pensare di fare una qualunque procedura verso un bambino senza avere accanto la figura genitoriale di riferimento e anche se ci pongono mille domande noi dobbiamo essere pronti a rispondere sempre con pazienza, con tatto, con sensibilità e spiegare ogni volta tutto ciò che si fa passo per passo perché la reazione del bambino e della sua famiglia cambia e anche la risposta alle cure è completamente diversa se noi ci approcciamo in una maniera più umana più vicina al bambino e alla sua famiglia ovviamente dobbiamo offrire la nostra professionalità e quindi dobbiamo offrire il nostro sapere oltre al nostro saper fare al nostro saper essere e per far questo è necessario che chi si prende cura del bambino abbia conoscenza di ciò che si va a fare non ci possono essere dubbi sulla gestione delle patologie ci sono le linee guida internazionali che ci dicono espressamente quello che bisogna fare in quel dato momento e come procedere ovviamente non deve essere tutto tecnico ci fidiamo sempre anche al nostro consenso e arriviamo quindi alla nostra esperienza come sapete tutti nell'ottica del pieno di rientro anche il nostro reparto è stato diciamo smantellato è stato chiuso proprio come unità operativa di pediatria però come previsto anche dal pieno di rientro sempre siamo stati accorpati all'unità operativa complessa di pediatria di La Mezzia Terme e quindi siamo rimasti un ambulatorio di pediatria con funzione anche specialistica creiamo un servizio dei hospital e di pronto intervento nelle ore di urne quando il pediatra è presente ecco siamo appunto un ambulatorio di pediatria e funzioniamo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14 qual è la nostra mission? ormai si usa questo termine anglosassone per dire cosa facciamo la nostra finalità perché siamo rimasti qui a Soveria Mannelli sia io che l'equipe che insomma lavora con me perché abbiamo proprio sentito il bisogno di voler garantire assistenza a questi bambini della comunità dell'R20 offriamo la nostra competenza pediatrica molti specialistica offrendo degli interventi efficaci in cui il bambino viene sempre posto al centro della nostra attenzione insieme anche ai bisogni dei loro familiari rispettando le esigenze e le tradizioni culturali e religiose come sapete ci sono anche delle piccole comunità multiettiche insomma qua nei paraggi molti afferiscono anche in pediatria e cerchiamo di ospitare il bambino nei nostri ambienti che sono stati completamente ristrutturati come poi vedremo e cerchiamo di offrirgli un ambiente dedicato il più possibile umanizzato qual è il nostro obiettivo? è quello fondamentale di ridurre l'ospedalizzazione attraverso l'adozione di alcune linee vita di implementare l'efficacia e l'efficienza dei trattamenti assistenziali sempre attraverso l'adozione delle linee guida e di assicurare un'integrazione con la pediatria di base vedo qui con grande piacere la dottoressa Caruso e con i centri SPOC il tutto ovviamente supportato da un aggiornamento continuo di tutto il personale per quanto riguarda il paziente che arriva invece pediatrico in acuto io devo ringraziare il pronto soccorso di Soveria Mannelli perché veramente mi offre una grandissima mano il limite ovviamente di un'attività pediatrica a Soveria Mannelli è che la mia presenza è garantita solo di mattina dalle 8 alle 14 tutto quello che arriva dopo è di competenza ovviamente del pronto soccorso però il bambino che arriva in pronto soccorso viene valutato con un triage del pronto soccorso che prende in carico il paziente e poi nel momento in cui è presente il pediatra quindi in questo caso la mia figura è quella dell'equipe che mi affianca il bambino arriva in pediatria viene visitato rimandato a domicilio trasferito oppure si decide poi il da farsi in base alla patologia che presenta e questo è il percorso del bambino attualmente nel nostro pronto soccorso se è un codice rosso quindi può arrivare con un 118 oppure può essere portato direttamente dai genitori viene accettato dal pronto soccorso il codice rosso rimane in pronto soccorso il pronto soccorso si risolve come nel caso felice della bambina che aveva ingoiato in tappo il caso può rimandarlo a domicilio oppure si può decidere il rapido trasferimento presso un'altra struttura per gli altri codici giallo, verde e bianco viene attivata la consulenza pediatrica il bambino sale in pediatria viene visitato e viene dimesso quindi rimandato a domicilio o nel caso in cui si reputa opportuno non dimettere il bambino perché possono esserci delle situazioni che non richiedono una dimensione insomma immediata si può trattenere in hobby l'obby è l'osservazione breve e intensiva e riguarda appunto il bambino che arriva da noi in pediatria ma che non è ritenuto dimissibile perché magari presenta una patologia che vogliamo in qualche modo approfondire un po' di più le patologie messe in hobby sono le seguenti nell'ipotemia, le gastroenteriti insomma quelle situazioni che possono essere risolte nell'ambito di poche ore che quindi non richiedono un ricovero ordinario infatti la durata del lobby deve essere comunque superiore a 180 minuti ma inferiore alle 24 ore nel momento in cui il pediatra è presenza può decidere di redratare un bambino nel caso in cui si tratti di una disidratazione che può essere gestita può fare una terapia antibiotica in vena insomma tutto il tutto si risolve ovviamente nell'ambito di poche ore e nel momento in cui la prestazione finisce il bambino si può rimandare a casa se è ritenuto dimettibile oppure se non siamo riusciti nell'arco dell'osservazione breve intensiva a risolvere la problematica inerente al bambino lo trasferiamo al nostro centro di riferimento SPOP e questa è l'attività che è stata svolta da un anno a questa parte come vedete la maggior parte i numeri più grandi della nostra torta sono rappresentati dalle visite di pronto soccorso in accordo con quelle che sono praticamente le percentuali in tutta Italia altra grossa fetta è rappresentata anche dall'assistenza infermieristica dei prelievi esterni cioè noi abbiamo veramente un numero congruo e abbastanza importante di bambini 543 che vengono da noi per effettuare i prelievi ematici che non vanno a farli in laboratorio ma che salgono su direttamente in pediatria il futuro qual è? vorremmo fare qualcosa di più per i nostri bambini? sì, vorremmo cercare di risparmiarli le interminabili file che si vengono a creare a volte al pronto soccorso perché magari ci sono delle situazioni di urgenza ed è per questo motivo che insieme al dottore Paola che ora non vedo abbiamo comunque deciso di far partire da qui a poco una cosa bellissima il fast track praticamente è una gestione molto veloce e rapida del bambino che può essere addirittura fatta dall'infermiere quindi dall'infermiere triagista che accette il bambino e questo vale ovviamente solo per i codici di liamentità parliamo di codici gialli e verdi di codici bianchi anzi il giallo forse no perché già richiede un approccio particolare ma sul verde e sul bianco il triage può essere affidato ad un infermiere di pronto soccorso che abbia competenze ovviamente adeguate il vantaggio qual è? che mentre l'infermiere accette il bambino il pronto soccorso può tranquillamente svolgere la sua attività occupandosi quindi dei pazienti con patologie più gravi si snellisce in questo modo di molto l'attività del pronto soccorso i nostri pazienti non attendono lunghe file e soprattutto si diminuisce il conflitto che si viene a creare spesso tra i nostri pazienti e il personale del pronto soccorso perché a volte è difficile spiegare che magari il ritardo di una dimissione può essere legato al fatto che in quel momento i colleghi del pronto soccorso sono impegnati in qualcosa di più importante e questo è anche uno stimolo per gli infermieri a cui poi si deciderà di affidare il fast track perché saranno portati ad imparare più cose a distruirsi ad acquisire sempre una più grande autonomia professionale questo è il nostro reparto ristrutturato molti di voi lo conoscono abbiamo deciso di adottare sempre questo colore queste immagini i bambini quando vengono devo dire la verità rimangono sempre molto colpiti superiamo abbastanza bene questo approccio difficile che all'inizio si può incontrare perché il colore distrae molto e gli interessa moltissimo questo è il nostro team che io ringrazio qui pubblicamente perché senza di loro non avrei potuto veramente essere qui ormai siamo una famiglia siamo una squadra ringrazio Filomena ringrazio Rita ringrazio Ida ringrazio Oria quello che voglio dire è che se i bambini sono felici anche il mondo sicuramente lo è e grazie intanto la voglio ringraziare per questa che non è una rimpatriata per aver rivisto moltissime persone con le quali ho passato almeno oltre 30 anni della mia vita e diciamo il titolo a questo congresso la medicina sobria è rispettosa rispecchia forse quello che moltissimi di noi hanno fatto anche nella loro vita ho cercato di carpire ad Anna con la quale per lunghissimi anni abbiamo discusso davvero di molti casi clinici sulle modalità di comportamento e su quello che con tutte le difficoltà che poi esistono in in un piccolo ospedale cercando di esprimere di di trovare le risorse per risolvere i casi che si presentavano e in alcuni davvero molto complessi quindi ascolterò con lei non mi ha voluto come dire preannunciare nulla su quanto di là quindi sono molto incuriosito nell'ascoltarla perché parlerà di un caso clinico un team multidisciplinare stellare quindi sono curioso di capire intanto il caso clinico e poi ascoltare sto team multidisciplinare stellare che sicuramente avrà portato alla risoluzione del caso a te Anna nel 2012 è stata sottoposta al Gemelli di Roma a intervento di sostituzione valvolare mitralica con una protesi biologica dal 2013 per fibrillazione atriale permanente e in terapia con anticoagulanti quegli anticoagulanti di cui ci hanno parlato il dottore Mancuso e Tonino Colosimo è ipertesa nel marzo 2016 è giunta nel nostro pronto soccorso per un ictus cerebrale devastante emorragico era dovuto alla rottura di un aneurisma è stata trasferita presso l'ospedale di Cosenza dove un eccellente neurochirurgo di cui parleremo anche in seguito il dottore De Rosa ha fatto l'intervento di svuotamento dell'ematoma e clipping della neurisma la signora stava discretamente bene è stata mandata in un reparto in una clinica di riabilitazione poi però perché rifiutava di mangiare pur potendo mangiare è stata sottoposta a PEG che sarebbe una comunicazione diretta con lo stomaco per alimentarla dal primo luglio 2016 non è 2017 2016 la paziente in questa clinica di riabilitazione presentava febbre prima intermittente e poi continua per cui è stata trattata con varie classi di antibiotici pensando soprattutto a un'infezione urinaria ma senza risultato nonostante venisse alimentata con la PEG presentava calo ponderale per cui le sue condizioni generali erano molto scadute i primi di agosto è stata fatta un'emocoltura ed è stato trovato un batterio molto pesante mi pare uno strepito poco fecalisi per chi è giunta quindi il 13 agosto 2016 vedete Ferragosto ritorna è giunta presso il nostro ospedale per eseguire un'ecocardiografia e l'ecocardiografia ha evidenziato questo per chi non è cardiologo la cosa inquietante vedete è questa massa questa è una masserella attaccata alla valvola biologica che non dovrebbe esserci ed è una masserella per modo di dire perché ha delle dimensioni enormi per noi cioè supera i 15 mm insomma è inquietante in più questa massa era molto mobile perché andava nel latro e nel ventricolo con i movimenti del cuore l'ingegnere Furiem aveva sistemato il filmato ma sul nostro computer non va ingegnere grazie allo stesso e ancora un'immagine di questa vegetazione la presenza di queste masse che si chiamano vegetazione ci fanno fare diagnosi di endocardite infettiva insieme a tutti gli altri aspetti ematoclinici l'endocardite infettiva è un'infezione molto seria perché interessa le strutture intracardiache soprattutto quelle artificiali come le valvole oppure per esempio i cateteri dei pacemaker e nonostante i progressi della tecnica e della scienza è gravata da una mortalità elevatissima questo perché quella masserella che abbiamo visto a parte che può determinare una disfunzione della valvola da richiedere un intervento cardiochirurgico d'urgenza si può anche staccare embolizzare e quindi andare a livello cerebrale e dare un ictus importante e poi successivamente ascessi oppure può andare a livello della milza e dare infarti splenici insomma è una patologia gravissima a questo punto siccome si poneva l'indicazione all'intervento cardiochirurgico noi abbiamo provato a telefonare alle cardiochirurgie della calabria ma non l'hanno accettata perché aveva questa paziente una controindicazione rappresentata dall'emorragia cerebrale recente quindi dovevamo decidere cosa fare le linee guida ci sono venute d'aiuto le linee guida vedete sono un aiuto e per il paziente perché sa di essere trattato allo stesso modo in qualsiasi posto si trova e per noi medici da un punto di vista legale ora le linee guida 2016 della società europea di cardiologia hanno introdotto un concetto che si chiama team dell'endocardite che significa che sono necessari per seguire questa patologia diversi medici cioè specialisti in varie materie perché come ho detto l'endocardite può dare manifestazioni cliniche non solo a carico del cuore ma a carico di vari organi e apparati inoltre le linee guida ci dicono anche come comportarci e nel caso della nostra paziente che aveva un'endocardite pericolosa ma non complicata per fortuna ancora le linee guida ci dicevano che poteva restare in un centro non specialistico quindi come il nostro che eravamo una divisione di medicina e cardiologia però dovevamo avere un team di riferimento a portata di mano allora tenete presente Ferragosto come dice il dottore Paola piccolo ospedale di montagna noi che facciamo apriamo la nostra agenda agenda di tante persone di tanti conoscenti e amici che sono grandi specialisti in tutta Italia e quindi abbiamo cominciato a chiamare infettivologi vari a dir la verità ma poi ci siamo affidati al dottore Caroleo che ha lavorato a Soveria e che lavora al policlinico Mater Domini di Catanzaro abbiamo chiamato cardiologi esperti in endocardite i massimi esperti italiani per fortuna i nostri amici che uno del San Camillo di Roma il dottore Paolo Pino e la dottoressa Moreo del Niguarda di Milano abbiamo chiamato cardiochirurghi delle gemelli di Roma grazie al dottore Comerci che è un cardiologo di Soveria che lavora al gemelli e il professore Cassese che lavora presso l'ospedale di Padre Pio perché un aiuto dall'alto ci voleva abbiamo chiamato poi un neurochirurgo in realtà noi il nostro neurochirurgo che è il dottore De Rosa non dobbiamo chiamarlo perché noi sappiamo sempre che cosa fa sappiamo che turni ha dove si trova possiamo chiamarla a qualsiasi ora del giorno e della notte praticamente ci appartiene effettivamente ci appartiene perché è il marito della dottoressa Mercurio quindi messo insieme quindi messo insieme questo meraviglioso team abbiamo iniziato a trattare la nostra paziente come comunichiamo noi con questo team mediante Whatsapp praticamente le immagini le mandiamo tramite Whatsapp a tutti questi colleghi sparsi per l'Italia così come tutti gli esami ematochimici Whatsapp è bello perché come dire protegge un po' ma protegge un po' la privacy nel senso che se uno ti vuole rispondere subito ti risponde ma può anche risponderti più tardi diciamo rispetto alla privacy del paziente quindi abbiamo iniziato la terapia antibiotica a dosi veramente da cavallo e grazie ai nostri farmacisti la dottoressa Gatti che ricordo veramente perché ci sta molto vicina e questi antibiotici ci sono stati forniti continuamente insomma non sono mai mancati per cui sotto la guida dei nostri di tutti noi medici e dei nostri meravigliosi infermieri passavano i giorni le settimane la paziente andava migliorando ma l'ecografia ancora era un po' inquietante la vegetazione persisteva abbiamo deciso per dieci giorni di non farla l'ecocardiografia e l'abbiamo fatta poi il 25 settembre 2017 l'immagine è questa forse vi ricorderete che c'era una massa che adesso non c'è più praticamente la nostra paziente è guarita dall'endocardite e vi assicuro che non è facile quindi per concludere noi abbiamo avuto una paziente affetta da una gravissima patologia quella che si chiama un caso complesso l'abbiamo trattata con una nuova tecnologia che abbiamo mutuato dai nostri figli ma che ormai usiamo con disinvoltura e poi una vecchia tecnologia che vorremmo tramandare che vorremmo insegnare ai nostri figli e che si chiama rapporti umani grazie con lei davvero per i 30 anni trascorti insieme di aver come dire affrontato mi hanno tolto la risolto anche altri problemi senza whatsapp whatsapp sicuramente è un'infezione incredibile che ti consente davvero con l'immediatezza di trasmettere immagini anche dal punto di vista medico poi De Rosa voglio ringraziare pure io perché è il marito di Maria Mercurio ma è assolutamente disponibilissimo per i più svariati i consigli che possono anche riguardare problemi neurochirurgici anch'io voglio ringraziare le autorità politiche presenti le autorità dirigenziali della nostra azienda voglio ricordare che io mi sono formato all'ospedale di Soveria Mannelli dove ho lavorato per 15 anni alla scuola del dottor Donofrio che ringrazierò sempre e che Soveria è sempre nel mio cuore perché io attualmente lavoro alla mezza ma quando ritorno a Soveria c'ho un sorriso in più c'ho una serenità in più nel mio animo e poi soprattutto voglio ringraziare la dottoressa Marotta che ogni tanto mi contatta telefonicamente per qualche consiglio di natura ortopedica ma la mia risposta è sempre una Anna tu sei la mia padrona ed io sono il tuo servo e anche oggi è così tu sei la mia padrona io sono il tuo servo sono qua per te e per tutti i colleghi di Soveria che quotidianamente svolgete la vostra ammirabile professionalità con impegno e serietà come anche Giovanni che ci farà ci parlerà di facciamo il punto forse il punto conclusivo della situazione o no o ancora ci resta qualche dubbio appunto quello di fare il punto sull'ospedale di Soveria Mandelli ma poi mi è venuta in mente un'altra idea un po' provocatoria cioè di aggiungere altri due punti alla mia relazione e cioè se se sull'ospedale di Soveria Mandelli c'è un punto interrogativo o un punto esclamativo verremo alla fine io sono arrivato la mia conclusione vediamo se è arrivata la vostra o quale sarà la vostra l'ospedale di Soveria lo sappiamo situato al confine di provincia accoglie pazienti che vengono soltanto dal distretto del Reventino ma anche dalla vicina provincia di Cosenza e infatti se noi vediamo i ricoveri nel reparto di medicina dei primi nove mesi del 2017 una buona fetta viene dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e ancora di più per quanto riguarda i ricoveri uomini abbiamo 121 ricoveri provenienti dall'area del Reventino ma anche 34 dall'azienda sanitaria di Cosenza e addirittura 2 da fuori regione quindi possiamo dire che in totale considerando anche l'attività ambulatoriale generica anche quella di cardiologia degli squagulati delle attività del reparto di medicina ormai dell'ambulatorio di diabetologia un buon 20% dell'utenza proviene dalla vicina provincia di Cosenza e in particolare dai comuni di Panettieri di Petividiano di Scegliano qui vediamo il ponte romano da Colossimi fino alla Sila praticamente non è più Sila piccola la Bocca di Piazza è parente già il territorio silano e poi abbiamo il comune di Bianchi che ci fornisce oltre a parecchi operatori anche parecchi clienti vediamo Bianchi ho trovato queste diapositive parla del paese delle pergamene vedremo più in là perché territorio montano che ha fortemente disagiato anche perché le videocomunicazioni le conosciamo tutte sono particolarmente difficili da affrontare a cominciare dall'autostrada che è stata ribattezzata autostrada del Mediterraneo ma partendo da Salerno il Mediterraneo si vede a Falerno dopo 320 km più o meno quindi si passa più che altro fra le montagne e tra l'altro è stata a detta dei nostri politici è stata terminata nel 2016 ma ad Altili a Rogliano fino a Cosenza ancora non se ne sono accorti è un comportamento dell'autostrada tant'è che spesso viene usata per altri scopi sia d'estate che d'inverno questi sono i motivi dell'autostrada un'altra problematica è quella della strada che non c'è già il nome è tutto un programma non c'è non si sa se ci sarà in futuro sta strada ma sta di fatto che ancora c'è il comitato però della strada che non c'è speriamo che prosegua nell'attività almeno il comitato perché i lavori non mi pare che procedano tanto speditamente poi c'è la strada per la Mezzia questa è stata scazzata dalla mia macchina in inverno spesso siamo costretti ad affrontarla in queste condizioni ma fin quando dura ben venga insomma è anche bello dal punto di vista paesaggistico avventurarsi in queste condizioni per chi se la sente la ferrovia ebbè la ferrovia della Calabria è sicuramente spettacolare però quella per Catanzaro è stata fortunatamente riaperta proprio in questi giorni perché Frano è in continuazione spesso interrotta però ci sono dei bei paesaggi mentre invece per quanto riguarda la tratta per Cosenza ecco ritorniamo un attimo al comune di Bianchi il paese delle pergamene qualche settimana fa sono stato ospite del professore Taverna nella sala delle pergamene del comune di Bianchi dove sono allestite tutte queste antichissime e preziosi pergamene però la mia attenzione è stata tratta da un documento molto minore molto più soft diciamo non è antico in cui il sindaco dell'epoca tale H. Tatis che dovrebbe essere il nonno del nostro Cesarino scriveva non so se riesco a vederlo oggi in occasione del passaggio del primo treno dalla stazione di Bianchi diceva oggi invece il fischio di questa macchina ci ha detto che l'isolamento è finito questo documento è datato 31 settembre 1918 a distanza di giusto un secolo da allora il progresso ha fatto sì che quel treno da Bianchi non passi più infatti non so che è stato soppresso completamente e quindi diciamo queste sono le condizioni spesso in cui siamo costretti a viaggiare d'inverno è un particolare riconoscimento io farei a chi quotidianamente in tutte le condizioni atmosferiche e con tutti i mezzi possibili e immaginabili si avventura per le numerose curve che ci portano a sua rita con quello sottoscritto anche dicevo con ogni mezzo e in tutte le condizioni atmosferiche questo è un mezzo un personale questo è il dottore Mario Mazza in versione quattro stagioni quattro stagioni tutto l'anno questo è il dottore Mario Mazza in versione quattro stagioni questo è Serafino dei Fazzi in condizioni estreme su noi è una bellissima fotografia arriviamo anche a questo questa è una mia reperibilità notturna intanto ci avventuriamo oppure di notte però noi abbiamo la fortuna a proposito del team multidisciplinare tanto cari ad Anna Marotta di avere anche una dottoressa specialista in medicina aeronautica e spaziale perché non si sa mai in caso di necessità se possiamo avere bisogno anche di qualche altro mezzo mezzo di locomozione e dunque diciamo che il merito della sopravvivenza dell'ospedale di Soveria è sicuramente dovuta ai nostri politici ai nostri amministratori ai nostri direttori al personale che ci lavora che viene da fuori però permettetemi di dire che il merito principale è della gente di montagna della popolazione che afferisce al nostro ospedale che ha tante qualità tra cui la bontà la generosità la simpatia ma il motivo principale del rapporto fra medico e paziente i valori principali sono la fiducia e il rispetto questo per tornare al titolo del nostro congresso fiducia e rispetto che sono sicuramente reciproci ma che sono soprattutto evidenti dalla parte del malato perché se oggi possiamo lavorare a Soveria in condizioni di tranquillità di serenità e lo facciamo volentieri è perché appunto non esiste o no finora non è esistita la mala sanità noi vediamo ogni giorno i nostri colleghi che subiscono attacchi di natura fisica morale verbale anche mediatica mentre il poter lavorare in relativa a serenità sinceramente ci fa restare volentieri a Soveria Mannelli e se l'unico appunto che posso fare alla popolazione montana è forse quella di essere eccessivamente legata a degli usi a delle tradizioni a delle consuetudine soprattutto alimentari che spesso ostacolano il nostro lavoro soprattutto per quanto riguarda il consumo di statine diciamo abitudine in cui spesso siamo coinvolti anche noi mi portiamo a semestrare sono dall'altra parte spesso spesso siamo coinvolti anche noi in queste sagre abitudini inviti ma noi diciamo un po' per mancanza di tempo un po' perché siamo dei fermi sostenitori della dieta mediterranea purtroppo spesso siamo costretti a rinunciare qui abbiamo una foto nell'epoca anche presente che mi sembra Tonino Siriani quando si dilettava questo è un altro capolavoro dell'arte culinaria locale e insomma sono pazienti che sono un po' restie da accettare delle modifiche dello stile di vita e della e della terapia e anche perché sono sono delle abitudini alimentari già radicate in età pediatrica io spero che possa partire il successivo filmato perché era la parte conclusiva speriamo che parta perché altrimenti non è partito mi dispiace era un filmino carino come si torna indietro grazie a tutti i paesi limitrofi così come sono nelle loro difficoltà ma l'esperale costituisce sempre una garanzia per tutti i cittadini di questi posti che difficilmente si possono raggiungere i centri più grandi grazie Giovanni conclusiva di questo terzo simposio io vi saluto affettuosamente e vorrei dire due cose innanzitutto presentarmi io sono Francesco Pugliano da un anno e mezzo circa opero in questo ospedale nel senso che esercito la mia professione di gastroenterologo e di endoscopista presso il servizio di endoscopia e di gastroenterologia che da tanti anni esisteva che grazie alle autorità presenti il direttore generale Giuseppe Perri e tutto il suo staff e al dottore Tomaselli hanno fatto sì che questo servizio si riattivasse dopo la crescenza del dottor Peronace e che è stato precedentemente condotto dallo stesso Peronace e nei tempi passati dall'amico onorevole Tonino Scalzo Riattivato questo servizio un altro ringraziamento concluso con questa cosa mi auguro che il servizio possa ampliarsi perché l'utenza c'è spero che sia contenta del servizio pare di sì spero che venca ampliato il servizio perché il servizio di gastroenterologia ne servono di questi servizi nella zona e soprattutto nel Reventino come giustamente diceva nei ricoveri che vengono fatti spesso arrivano pazienti dall'Interland Cosentino l'altro ringraziamento va alla dottoressa Marotta per avermi invitato qui come moderatore stasera per questa splendida iniziativa che tutta quanta racchiusa nel titolo la medicina sobria e rispettosa di un piccolo ospedale di montagna grazie a tutti e per un proseguimento naturalmente non si poteva completare senza i nostri infermieri senza i nostri meravigliosi infermieri una piccola rappresentanza di loro dirà due parole ma naturalmente è come se ci fossero tutti ho visto di là Gerardo fatevi vedere Mirella tutti quanti quindi questi che partono di Santino quelli che sono di turno ovviamente non possono venire quelli che dimentico li dite voi che stavo dicendo una loro piccola rappresentanza dirà due parole per far vedere anche dal loro punto di vista che cos'è il nostro reparto comincia la nostra capostana voglio raccontarvi una cosa io è da due anni che dirigo la medicina di Soveria però in realtà è come se ci fossi sempre stata perché i primi dieci anni della mia vita li ho passati in medicina poi abbiamo fatto una bellissima cardiologia con il dottore Belleni però insomma sono sempre stata legata alla medicina per cui conosco tante cose della medicina ma alcune mi sfuggivano per esempio il fatto che il sistema cioè la stanza della biancheria del nostro reparto è diversa da quella degli altri reparti perché la biancheria di un reparto di medicina solitamente ha le lenzuola le coperte le federe i lenzuolini quelli che servono per le medicazioni cioè tutto quello che è necessario per il paziente la nostra no la nostra ha pure pigiami camice da notte vestaglie giacche da camera le soppressate sono nascoste praticamente i nostri infermieri portano i pigiami in più le camice da notte in più che hanno a casa oppure quando ci sono le svendite loro ne comprano uno in più e lo portano in ospedale per cui tanti pazienti che arrivano in condizioni veramente pessime dopo un'ora sono puliti ordinati con un pigiama nuovo è la nostra caposala e quindi capita capita spesso che i nostri pazienti e i loro parenti si ricordino di queste cose e poi ci scrivano qualche legno Anna Vaccaro coordinatrice dell'unità operativa di medicina nonostante l'emozione nel parlare davanti a voi tutti oggi non posso non dare il mio contributo poiché da 39 anni questa unità operativa rappresenta la mia seconda famiglia ecco questa è la parola chiave per descrivere l'ambiente in cui lavoro famiglia ambiente nel quale noi siamo coinvolti medici e infermieri ma sono coinvolti soprattutto i numerosi pazienti che quotidianamente ci onoriamo di assistere non solo perché è il nostro lavoro ma piuttosto come farebbe un figlio con i propri genitori ogni giorno infatti noi tutti diamo il nostro massimo impegno affinché la degenza nella nostra unità operativa venga vissuta con serenità e fiducia spesso elementi necessari e fondamentali per la guarigione stessa dei nostri assistiti un insieme di piccoli gesti quali un semplice sorriso o una parola di incoraggiamento ci hanno permesso nel corso degli anni di consolidare quest'ambiente familiare e annullare il divario tra paziente ed operatore sanitario con grande gioia e soddisfazione riceviamo quotidianamente numerose manifestazioni di gratitudine e riconoscenza da parte dei nostri leggenti e dei loro familiari piccole cose per ricordarci che in questa nostra piccola realtà ospedaliera stiamo facendo le cose giuste nel modo migliore a riguardo vorrei leggervi una delle tante lettere di ringraziamento ricevute in quanto le parole in essa contenuta non solo rappresentano per noi motivo di enorme gratificazione ma ci ricordano che il nostro non è solo un lavoro ma rappresenta piuttosto modo di essere e di vivere allora vi leggo la lettera scriviamo questa lettera con tanto affetto nel cuore per ringraziare gli operatori tutti del reparto di medicina del presidio ospedaliero di Sovria Mannelli abbiamo apprezzato l'umanità e la delicatezza con cui il personale tutto opera cercando di alleviare la sofferenza e accompagnando malati e familiari con discrezione e professionalità ci avete rassicurati nel dubbio protetti nelle sofferenze gioite con noi nelle piccole vittorie quotidiane riconoscendo sempre l'identità dell'ammalato come persona al di là della malattia e dei protocolli era proprio una grande felicità quando il nostro congiunto affetto da demenza stordito precedentemente da psicofarmaci anche se non riconosceva i nostri volti cantava a sguarciagola vecchie canzoni si nutriva da solo sorrideva e mandava baci a tutti un vero peccato a quanto pare il nostro territorio rischi di perdere questa realtà ospedaliera che oltre alla professionalità sa offrire operatori validi capaci di prendere a cuore le persone specialmente fragili nei momenti più dolorosi e bui della vita grazie a tutti voi vi saremo sempre riconoscenti ed un grande bacio e abbraccio da papà allora colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la persona che ci ha omaggiato di queste preziose righe infine voglio rivolgere un ringraziamento alla dottoressa Marotta a tutti i medici è un ringraziamento particolare a tutti i miei infermieri potrebbero sembrare le solite parole banali ma mi preme rivolgere loro la mia personale stima e gratitudine per la grande professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento delle loro mansioni spesso anche con grandi sacrifici personali a testimonianza del profondo spirito di appartenenza che ci accomune e unisce tutti inoltre saluto e ringrazio con grande stima affetto tutte le persone che hanno lavorato con noi negli anni passati e che adesso sono in pensione o trasferite in altre strutture adesso noi presentiamo gli infermieri un poco uno alla volta io ho il compito di presentare un infermiere che connubia bene la professionalità la competenza anche un mantenimento di buoni rapporti interpersonali per quanto riguarda la prima per quanto riguarda la professionalità ci sono molti che ricordano i suoi massaggi cardiaci e quindi questo vuol dire che sono stati efficaci ma per quanto riguarda l'altro lato vorrei raccontare un aneddoto se mi permettero Salvino una notte facevamo la notte io lui e un altro infermiero la signora Maria che è qua beh c'era una signora che disturbava tutto il reparto gridava in continuazione poi a un certo punto si fermava non gridava più beh sono andata a vedere che cosa succedeva e mi sono resa conto che solamente quando Rosalbino era vicino a lei le teneva la mano lei si calmava bene anche ieri la signora Maria a un certo punto abbiamo detto beh Rosalbino è inutile che tutto il reparto stia sveglio è inutile che stia sveglia pure io è inutile che stia sveglia la signora Maria prenditi una sedia stai vicino a lei e tienici la mano e tienici la mano vorrei rassicurare la moglie la signora Rosetta che però aveva più di 90 anni la nonnina e quindi è con gioia davvero che vi presento Rosalbino Esposito che tutti conosciamo e a cui tutti vogliamo bene stimiamo grazie per la presentazione e buonasera mi chiamo Rosalbino e ho 56 anni e svolgo il ruolo di infermiere da 32 dopo tutto questo tempo provo ancora entusiasmo per la professione che tanti anni fa scelsi e ancora ad oggi continuo ad accompagnarmi il desiderio e la volontà di essere in qualche modo d'aiuto a chi è nella situazione di bisogno arrivai a Soveria il primo maggio 1988 con il desiderio di crescere professionalmente con la curiosità verso nuove conoscenze e il bisogno di capire fino in fondo ciò che faccio inoltre trattandosi di una piccola struttura nello stesso tempo ebbi la fortuna e l'opportunità di instaurare un bel rapporto con tutto il personale sanitario e i pazienti e i pazienti non nego le difficoltà incontrate il notevole impegno richiesto e i vari problemi dottori esistenti l'ospedale di Soveria è da sempre stato percepito come una famiglia da me e dagli altri operatori che negli anni vi hanno prestato servizio e continuo anche oggi nonostante la fase di precarietà in cui si trova è proprio per questo motivo che con competenza umanità e spirito di sacrificio abbiamo in questi anni cercato di migliorare e provvedere alle carenze strutturali e logistiche del reparto di medicina a tal proposito quando è stato ristrutturato il reparto molti di noi hanno contribuito dando una mano ad ultimali lavori ognuno per le sue capacità durante questi anni molti sono stati ringraziamenti e riconoscimenti sia scritti che verbali e le donazioni da parte di privati cittadini un atto di generosità che testimonia il forte legame e il profondo senso di vicinanza della struttura sanitaria avendo sempre chiaro l'obiettivo principale assicurare il meglio a chi si affida le nostre cure e rende la leggenza meno dolorosa di quanto già sia in particolare alcune di queste donazioni hanno preso forma nella sala d'attesa creando un ambiente più confortevole e a disposizione dei pazienti di amici e di parenti che la accompagnano è stata arredata con un comodo divano sedie e un tavolino inoltre è stato possibile allestire una libreria e un televisore a disposizione degli utenti negli ultimi mesi si è deciso di iniziare una colta fondi per acquistare 9 televisori con relativo sostegno destinati alle camere dell'agenzia per migliorare i confort offerti e per fare ciò che si è reso necessario rifare l'impianto antenna tv che è stato realizzato grazie al lavoro di un tecnico a titolo gratuito questo obiettivo è stato raggiunto in breve tempo grazie alla generosità del personale ma anche grazie ai pazienti e alle loro famiglie che hanno contribuito i nostri obiettivi non finiscono qua ma cercheremo di raggiungerne altri grazie a tutti buonasera allora a me tocca presentarvi l'infermiere Sergio Bonacci è un infermiere molto simpatico è dotato di uno spiccato senso dell'umorismo avevamo in reparto ricoverata una signora di nome Delfina una signora tendenzialmente triste non rideva quasi mai Sergio Bonacci una mattina molto presto all'inizio del turno ha messo sul suo comodino l'immagine di un delfino la signora quando se ne accorta si è messa a ridere e a noi questa cosa ci ha meravigliati molto mentre entravamo la signora nella stanza della visita si è rivolta a noi e ci ha detto stamattina sono molto contenta perché è trascorso la notte con mio marito la signora Delfina col delfino questo è Sergio Bonacci una persona nella fattispecie un infermiere che riesce a far sorridere le persone anche in situazioni poco piacevoli come ad esempio la malattia Sergio Bonacci grazie io sono a 40 anni che sono in servizio ho lavorato nella medicina geriatria lungo leggenza quindi è sempre doveroso dare due parole per questi anziani che spesso vengono un po' diciamo emarginati allora io inizio ho dato questo titolo a questa mia relazione dicendo grazie nonni questo è il titolo che ho voluto dare a questa mia relazione per la giornata di oggi sento l'esigenza di dover spendere due parole per quello che ho dato e per quello che mi è stato dato nei miei 40 anni di servizio per il nostro ospedale come ben sappiamo gli anziani rappresentano una grande risorsa per le famiglie e per la società sono primariamente esempio di saggenza e di valore di tutto rispetto in molti casi inoltre sono sostegno economico e soprattutto sono un supporto fondamentale nella gestione dei nipotini i nonni in babysitter una fortuna che diciamo non tutti ce l'hanno nel corso degli anni però ho avuto modo di osservare diverse situazioni alquanto spiacevoli mi riferisco all'emarginazione all'abbandono e al totale disinteresse dei nostri nonni nei loro periodi più bui caratterizzati da malattia da un'onotosufficienza una condizione ingiusta che fa mal all'animo e soprattutto alla dignità l'ospedale dal momento del ricovero è il dovere della cura e della degna assistenza degli anziani dietro molti di loro ci sono storie di dolori di guerre di fame di enormi sacrifici assistere vuol dire riconoscere e rispettare tutto questo essere infermiere non è un lavoro ma una missione che fa parte da dentro che si spinge ad andare oltre oltre il nostro egoismo vuol dire comprendere e non dimenticare per quanto ho potuto nonostante errori alti e bassi ho portato avanti il mio lavoro con amore e passione tanto il massimo di me stesso oltre ad assistere nei loro bisogni gli ammalati ho cercato di alleviare le loro sofferenze e soprattutto dargli sollievo a queste sofferenze penso che in tutte le cose l'unione fa la forza l'importante è il sostegno che deve essere sempre garantito e per questo motivo che in reparto come il nostro oggi ovvero un reparto di un collegenza diventa necessaria la presenza oltre quella degli infermieri di personale giovane di osso di otto tutto ciò che nella stretta collaborazione ognuno nel riconoscimento nel rispetto della propria professione e di quelli altrui in questi ultimi anni per vari motivi siamo stati in servizio solo due infermieri senza personale supporto questo ha comportato un carico di lavoro eccessivo distribuito sui soli due che hanno svolto anche funzione di tutto fare diciamo centralinista portinaio personale usiliare abbiamo fatto di tutto pur di mantenere il nostro reparto gli stessi infermieri che faccio sempre con battute raggiungiamo insieme 82 anni di servizio e 125 anni di età anagrafica non pensate che venga meno la qualità del lavoro così oggi di recente il nostro lavoro è stato levemente alleggerito grazie alla presenza di dei giovani osso in reparto questo però non è sufficiente per colmare dei saggi servono più osso io per mettere una battuta hanno assunto una signorina toffaccini toffaccini per mettere una toffa ma per mettere una toffa ci vogliono almeno 3 2 3 toffaccini la loro collaborazione è fondamentale per la prevenzione un esempio sono le lezioni da decubito che è sempre segno di una cattiva assistenza vorrei ricordare che l'azienda costerebbe molto meno un operatore in più piuttosto che trattare problematiche del genere spesso giungono insinuazioni sul nostro reparto questa è una cosa che un po' c'è che ignorantemente o per mala fede dubita sul nostro lavoro su quanto sia realmente impegnativo e gravoso ci tengo a dire quanto questo mi offende e mi umilia ma di certo non è niente che mi possa togliere lo spirito e il desiderio di lavorare come sempre ho fatto certo che non posso fare dei miracoli anzi vi confesso ancora permettetemi una battuta io un miracolo l'ho fatto davvero una mattina mentre facevo un prelievo di sangue facevo il prelievo a un anziano cieco come appunto subito si è messa a gridare questo è successo mi ha fatto vedere le stelle si è fidata al miracolo la gente veniva a casa mia io subito ho messo una cassetta con offerta mi auguro il meglio che il meglio sia quello giusto grazie a tutti e grazie a voi nonni che mi avete arricchito tanto con i vostri racconti i vostri esempi ed esperienze di vita che tengo custoditi preziosamente dentro di me io devo presentare la signora Maria Pane che è un altro punto di forza della divisione di medicina è una donna forte anche se piccolina ed è sempre presente al lavoro è molto comprensiva e gentile con i pazienti le hanno dato un nome particolare non lo voglio dire però perché è sempre elegante lo dice Tonino io non lo dico e soprattutto per la sua mania che ha di indossare fular anche stasera peccato che tra qualche mese non ci sarà più con noi ci mancherai tanto grazie grazie signora Maria buonasera scusate l'emozione saluto tutti i presenti ringrazio in particolare la dottoressa Marotta per l'opportunità che mi ha dato di intervenire in questo incontro sono un'infermiera professionale ho iniziato a lavorare nel 1976 proprio nel reparto di medicina dove tuttora lavoro in questi 41 anni ho assistito al cambiamento dell'ospedale ricordo che quando ho iniziato solo nel mio reparto avevamo a disposizione 50 posti letto con pazienti che arrivavano anche da fuori regione e l'ospedale svolgeva tutte le funzioni che oggi sono svolte dai grandi ospedali in questi anni abbiamo vissuto diverse esperienze sia positive che negative mettendo sempre al primo posto i bisogni dei pazienti fornendo a loro e alle loro famiglie un punto di riferimento nonostante negli ultimi anni l'ospedale affrontate sta affrontando diverse difficoltà dovute al ridimensionamento dello stesso il vero punto di forza di questo ospedale è il rapporto di collaborazione e di stima tra i vari operatori che con grande spirito di sacrificio portano avanti questa struttura come una grande famiglia tra pochi mesi andrò in pensione e il mio augurio è che l'ospedale riprenda il vigore di un tempo cercando di mantenere le caratteristiche che da sempre lo contraddistinguono come un piccolo ma grande ospedale di famiglia presentare adesso la più giovane la più motivata la più impegnata anche dal punto di vista politico non sto qui a raccontare gli aneddoti se no facciamo notte spero solo che possa mostrare qualche fotografia che dimostri il suo carattere sempre allegro gioioso spiritoso ma comunque sempre altamente impressionante Francesca Martolotta buonasera a tutti anche io da buona politica faccio ringraziamento ai medici dirigenti moderatori tutti quelli che mi hanno preceduto ma un ringraziamento di cuore lo devo alla dottoressa Marotta e ai suoi collaboratori che sono qui insieme a lei anche ai collaboratori esterni che ti hanno aiutato alla realizzazione di questo splendido evento perché erano anni che a Soveria non si organizzava un evento di tale importanza e poi perché per la prima volta noi infermieri siamo stati tenuti tanto in considerazione sia nelle relazioni precedenti sia ora da voi avete proprio espressamente detto quanto ci tenete a noi se noi parliamo oggi di medicina sobrirrispettosa è proprio perché voi ce lo potete permettere anzi io direi il convegno sobrirrispettoso di un piccolo ospedale di montagna perché alla fine si è rivelato questo e questa sera qua si è parlato di soprattutto di bambini di come vengono curati i bambini si è parlato del rapporto bellissimo che c'è tra medico e paziente e si è parlato di tantissime cose dovevamo parlare anche di un servizio farmaceutico che funziona ma funziona a singhiozze abbiamo parlato di un servizio di radiologia ma diciamola tutta il vero motore la forza motrice dell'ospedale siamo soprattutto noi infermieri coi usati da loro perché se è vero che il medico cura il paziente a prendersi cura del paziente è proprio l'infermiere io non voglio dilungarmi troppo altrimenti finiamo domani e già mi hanno minacciato di buttarmi fuori anche perché sono l'ultima a dover parlare questa sera voglio semplicemente dirvi voglio fare il riassunto di quello che c'è quello che succede all'interno del nostro reparto hanno già parlato ampiamente la nostra Maria che lavora da 41 anni quindi ha già avuto grosse esperienze nel nostro reparto la nostra coordinatrice da 39 anni Rosalbino 32 anni e Sergio che come dice lui scherzosamente è arrivato in reparto che era ancora in fasce quindi io rappresento l'infermiera più giovane dopo Luciano De Fazio infermiere dico che stranamente per rimanere in tema di famiglia è mio marito infatti quando parliamo di famiglia intendiamo anche questo nei cambi turni spesso la nostra famiglia è lì perché ci scambiamo le bambine in reparto così come è successo anche ad altri colleghi degli altri reparti così come succede anche nelle altre realtà quindi io stasera faccio un riassunto un po' velocissimo ve lo prometto sarò velocissimo parlerò di pillole di vita familiare per pillole non intendo queste intendo dei riassunti di vita dei piccoli momenti di vita che noi infermiere abbiamo vissuto all'interno del nostro reparto che continuiamo a vivere e che lo possono testimoniare qua con orgoglio tutti gli infermieri che sono in pensione premetto anche un'altra cosa che le immagini che trasmettiamo sono state autorizzate molte sono state tolte perché non avevamo l'autorizzazione e che il dottore Carnovale si è salvato in calcio d'angolo non vi dico più niente allora io ho iniziato a lavorare nel reparto di medicina undici anni fa prima lavoravo con orgoglio insieme al dottore Gigliotti e al dottore Donofrio nel reparto di ortopedia con la chiusura dell'ospedale fui spostata in medicina non fui contentissima della situazione perché in ortopedia lasciavo un ambiente bellissimo lasciavo delle colleghe con la quale si era restaurato un rapporto eccezionale quindi dover ricominciare da capo un po' la cosa mi spaventava entro in medicina era carnevale quindi non era uno scherzo per me entro in medicina e trovo questa scena e vi svelo chi c'è sotto questa maschera ed è Rosanna Romano che io affettuosamente per famiglia chiamo zia Rosanna che accompagnata dalla dottoressa Mercurio facevano visita ai malati del reparto per cui mi trovai di fronte a questa scena la sensazione mia fu grandissima perché in quel momento capì che in medicina si occupava la medicina si occupava del paziente non solo dal punto di vista farmacologico terapeutico ma si occupava soprattutto del paziente dal punto di vista emotivo dal punto di vista scherzoso riuscivano a scherzare anche con il paziente ora gli altri hanno parlato di Ferragosto io vi parlerò invece di Natale noi il nostro Natale lo viviamo così questo è uno dei primi alberi di Natale che ho fatto io nel reparto di medicina ce ne sono altri vi mostro solo i più simpatici perché altrimenti non avrebbe staremo qua anni e anni questi sono alcuni alberi di Natale qui la curiosità di una paziente questo invece è l'albero di Natale che ho fatto l'anno scorso allora la caratteristica di questo albero di Natale la potete notare ma la cosa più bella sapete qual era che tutte le mattine c'era chi andava a controllare l'albero se fosse caduto un personaggio a darmi suggerimenti non lo devi spostare qua i nostri pazienti in pratica vivevano quel momento di Natale come se fossimo una vera famiglia una famiglia tutti quanti insieme e poi il classico scherzo della Befana già Emilia che ringrazio che qua l'aveva fatto negli anni precedenti però purtroppo non avevo la fotografia da far vedere questo rappresenta dei sacchettini che ho preparato io che facevo la Befana quindi la notte di Natale lavoravo anziché preparare i regali per le mie bambine li preparavo per i miei bambini che erano i miei colleghi quindi per tutti i colleghi del reparto io avevo preparato un sacchettino di Natale queste sono delle foto ho un titolo foto tra amiche sono state loro a chiedermi di essere fatta di aver scattato questa foto perché poi anche tra di loro si stava questo rapporto bellissimo e quindi forse abituati dai nostri selfie dalle nostre fotografie anche loro volevano la foto ricordo foto che poi è stata stampata e consegnata alle pazienti e ancora altri momenti insieme alle nostre pazienti io qua sono la stessa della paziente con la fascia e poi queste foto quella di sinistra rappresenta le tre anne Anna Vaccaro Anna Marotta e la nostra paziente Anna e poi anche io voglio raccontarvi una foto scattata per puro caso però in quell'occasione la paziente aveva una forte tosse e la dottoressa Marotta gli diceva ma vi fa male il petto no no quando stai all'uletto sempre dice ma che vi fa male lo sterno no lo sterno l'interno mi fa male quindi anche in quel caso Combe e gli altri hanno spiegato le incomprensioni questa è una foto che abbiamo mandato io e Maria alla dottoressa Marotta che si trovava a Lucca quindi un bacio affettuoso ancora questi sono gli infermieri giovani della medicina infermieri io e Luciano e poi c'è la Toppaccini che vi diceva a sinistra che vi diceva Sergio che ringrazio che sta facendo l'osso e si impiede da stamattina prima lavorato adesso è qua un applauso e c'è Giovanni noi rappresentiamo la forza giovane dell'ospedale di Soveria insieme anche a Rita e a Santina ma noi siamo i più giovani però più giovani di noi è arrivato Sergio Bonacci tant'è che Sergio ha ancora la sua prima foto nel suo tesserino di quando era un bambino questo è il tesserino di Sergio però noi che siamo giovani e vogliamo tanto bene a Sergio abbiamo lo aiutiamo in qualche modo nelle sue attività soprattutto Luciano Luciano che è il più ingegnoso degli infermieri giovani ha ideato per noi un paio di scarpe con le ruote per potersi spostare comutamente da una corsia all'altra ancora i riconoscimenti di questo non vi parlerò proprio perché l'ha fatto ampiamente la nostra coordinatrice di questi non andiamo orgogliosi e sono affisse al nostro reparto sono i riconoscimenti che i parenti dei pazienti hanno avuto nei nostri confronti abbiamo anche una targa e di questo ve ne ha parlato Rosalbino quindi le televisioni che ci sono nel reparto ora voglio dirvi una cosa benché ci siano grosse difficoltà disagi nella viabilità altre situazioni un po' frammentarie servizi a singhiozzi l'unica cosa che ci contraddistingue ci sono anche delle incomprensioni tra di non pensate che sempre va tutto bene ci sono delle incomprensioni ci sono degli scontri che però ci servono per crescere dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale però l'unica cosa che ci contraddistingue sempre è il nostro sorriso perché noi vi accoglieremo sempre con il nostro sorriso grazie prima di prima grazie dottoressa Tropea ne siamo onorati buonasera a tutti io sono la tropea e faccio i miei complimenti a tutti quanti ho lavorato in questo ospedale e so benissimo che cosa vuol dire qui la qualità dei rapporti la qualità delle prestazioni il livello di assistenza le difficoltà che vengono gestite insieme agli altri colleghi insieme agli infermieri insieme ad un ambiente che accoglie un ambiente dove non ci sono almeno contrasti estremamente evidenti di quelli che tolgono l'efficienza che tolgono il piacere di lavorare insieme il merito è proprio di questa atmosfera che tutti hanno mantenuto che si è creata e che è stata mantenuta oltre le difficoltà le difficoltà in genere dividono le difficoltà rallentano le difficoltà fanno scadere la qualità un po' in tutto qui non è successo c'è stato un ridimensionamento ma ritengo che la qualità si è mantenuta nonostante tante cose ringrazio e do i miei complimenti ad Anna che è una collega disponibilissima anche a nome dell'Associazione Donne Medico di cui fa parte e di cui io sono presidente quindi è con noi e con me insieme a Caterina che è qui presente a Ermio e siamo veramente liete perché è una collega che dà grandi contributi dove interviene dove lavora fa rete ama la rete non per mettersi in evidenza ma per lavorare noi siamo donne che lavoriamo insieme ai colleghi grazie grazie grazie